C'è un altro cliente, dammi la metà. Non è successo niente però. Mica per colpa mia. Ho capito, facciamo così. Per la prossima volta mi dai un ticket restaurant, un buono, un bollino. Ma cos'è il supermercato? Alla fine ti regalo le tazzine? Che cazzo c'entra le tazzine? Che poi il supermercato a me c'è una cosa che mi serve, è il televisore al massimo. Tu che cazzo sei?